stiamo sul benissimo ora si hello a tutto pronto ciao a tutti e tutti stava commentando il nostro bellissimo studio per la mia bimba no quello è mio io l'ho scelto tra tanti ma mi ha proprio colpito proprio la sua palette di colori e detto questo magari lo prendo io poi giustamente marco diceva sto ancora capendo dove mi trovo infatti è stato molto colpito dalle nostre sedie di gaming a rozzi a rozzi a rozzi anche se già stato su twitch come dicevamo prima off stream da ivan eccetera ma una veloce presentazione di una piccola azienda essenzialmente siamo siamo qui un bunker una start up di tre ragazzi che cercano di fare qualcosa nel mondo digitale ecco un prodotto di intrattenimento so come meglio descriverlo ok allora partiamo con una velocissima allora dicevamo marco cappato vabbè penso lo conoscano tutti radicale tesoriere dell'associazione luca coscioni ci vuoi spiegare velocemente di cosa si tratta questa l'associazione è per la scienza la libertà di ricerca scientifica che include anche il diritto di godere dei benefici della scienza quindi sulle libertà individuali dall'eutanasia le droghe l'aborto la fecondazione assistita cioè tutta quello che riguarda l'autodeterminazione individuale in altre parole per ciascuno di noi ciascuno deve avere diritto di poter scegliere sul proprio corpo sulla propria vita abbiamo parlato un po ovviamente si parla anche di morale se si parla di eutanasia aborto e cose del genere certo la morale e secondo me finché non fai un danno agli altri ciascuno la morale si guarda la propria nel senso che uno può anche essere contro e non volere consumare droghe ma non per questo vuole che arrivi la polizia arrestare chi si fa uno spinello cioè la morale individuale la legge invece riguarda tutti e quindi sarebbe bene che non siamo obbligati a fare come dice qualcuno se non facciamo danni agli altri giusto chiaro noi abbiamo commentato un pochino il discorso ovviamente dei referendum ci vuole giornale sulla situazione sapevamo di questa problematica nata insomma per la consegna delle firme poi fortunatamente c'è stata una proroga sì allora come associazione luca coscioni abbiamo promosso due referendum uno consegniamo le firme domani venerdì domani mattina alle 9 30 in piazza cavura roma ed è il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia cioè depenalizzare il cosiddetto reato di omicidio del consenziente che condannerebbe fino a 15 anni di carcere un medico che aiutasse un malato terminale una persona con sofferenze insopportabili a porre fine alla propria vita su questo abbiamo raccolto oltre un milione duecentomila firme in italia si può fare un referendum quando lo propongono almeno 500 mila cittadini quindi abbiamo raccolto più del doppio delle firme e le consegniamo domani piazza cavur ore 9 30 roma c'è un altro referendum quello per la legalizzazione della cannabis sul quale abbiamo raccolto oltre 600 mila firme quindi anche qui più delle 500 mila necessarie le consegneremo a fine ottobre c'è stato tutto un ritardo burocratico dei comuni che non vi sto a spiegare nel mandarci certificati però a questo punto abbiamo tempo per mettere insieme le cose e per depositare anche questo referendum entro ottobre se tutto va bene la corte costituzionale si deve esprimere si andrà a votare su questi temi e altri sui quali altri stanno raccogliendo le firme tra aprile e giugno della prossima primavera questa è una notizia magnifica io penso che se passa questa legge queste live diventeranno proprio piene di nebbia ne fai uso ne faresti uso della legge sull'eutanasia che senso ma tu che pensai che mi facevo cremare in live per la nebbia saresti contento infatti era esattamente quello che pensavo volevo proprio farlo in live perché è un concetto abbastanza evoluto quello dell'eutanasia comunque statale perché uno pensa allo stato alla funzione che ha sempre avuto è quella di tutelare la vita dei cittadini no proprio quasi in un modo il buon padre di famiglia certo sì quindi io sono d'accordo chiaramente è un punto di vista che secondo me va oltre perché per tutelare la vita dei tuoi dei tuoi cittadini forse bisogna ai banchi interrogarsi quando è il caso che venga interrotta per loro scelta no anche perché la differenza tra vivere e sopravvivere vivere significa casi specifici no potere scegliere qualcosa anche un malato terminale può vivere magari riesce a leggere a parlare con le persone che ama se però a un certo punto quella persona decide che basta che il limite è stato superato se gli imponi una sofferenza come una tortura a quel punto non è più vivere è sopravvivere tecnicamente ma non riesci più a vivere veramente ma si può decretare comunque se una persona è idonea all'eutanasia allora innanzitutto uno deve decidere la persona stessa poi è chiaro che se la persona è malata di mente depressa o sotto l'abuso di sostanze non è che uno arriva e dice ah voglio morire ah sì prego l'ammazziamo bisogna verificare che sia in una condizione di lucidità e di patologie per cui non è che io da quando ho iniziato la disobbedienza civile su questo aiutando le persone e sono stato processato anche per questo tantissime persone mi contattano molti non avrebbero diritto di ottenere l'eutanasia neanche in Olanda in Belgio in Spagna dove è legale perché magari sono persone depresse o curate male che chiedono di morire ma che potrebbero avere un'altra soluzione certo certo volevo sapere per quanto riguarda l'ostruzionismo da parte della politica italiana lo comprendo abbastanza per quanto riguarda la cannabis invece per quanto riguarda l'eutanasia secondo te quali sono le ragioni principali dell'opposizione politica su questo c'è un'idea antica del fatto che la vita sacra e comunque non appartiene agli individui alle persone lo stesso discorso sull'aborto su su tanti su tanti altri temi c'è un'influenza cattolica ovviamente più del vaticano che dei cattolici perché tanti cattolici hanno firmato il referendum questa legge del 1930 in realtà è una legge appunto del 1930 quindi del fascismo e quindi c'è anche un'idea si dice di stato etico cioè che chi decide che cosa è giusto e cosa è sbagliato per noi è qualcun altro e questo è un vizio antico del potere politico poi c'è una cosa più terra terra che è la paura dei partiti di confrontarsi su temi sui quali l'elettorato non sta a ascoltare loro ma sta a ascoltare la propria coscienza cioè solitamente su una cosa del genere uno non sta a vedere la destra la sinistra tanta gente che è venuta a firmare dicendo ma guarda io sono d'accordo perché mio padre ha sofferto oppure mia madre e questo non è di destra o di sinistra quindi temi che non possano più banalmente comprarseli coccando temi di questo tipo sì o negoziare io allora ti do l'eutanasia se mi approvi sta legge se poi però neanche il tuo parlamentare ti obbedisce perché magari ha avuto un'esperienza personale allora loro cosa fanno proprio non ne parlano non solo l'elettorato ma anche le persone tra le proprie fila certo perché noi abbiamo tutti i capi dei grandi partiti italiani chi sono? Salvini, Letta, Meloni, Berlusconi e Conte nessuno di loro ha speso una parola neanche dopo che abbiamo raggiunto le 500.000 firme eppure tanti dei loro parlamentari, consiglieri comunali eccetera sono andati in piazza a autenticare le firme quindi è proprio un tema su quale i capi dei partiti hanno paura perché vedo che la gente non se li fila non obbediscono questa tua disobbedienza civile che hai citato poc'anzi in che consiste? allora da qualche anno insieme a Mina Welby diamo le informazioni per coloro che vogliono ottenere l'eutanasia in Svizzera che è l'unico paese dove non solo è legale il cosiddetto suicidio assistito ma accettano anche gli stranieri diciamo qui e quindi gli italiani noi diamo informazioni alla luce del sole cioè rivendicando di fare questo e in due casi abbiamo accompagnato delle persone DJ Fabo, Fabiano Antoniani e Davide Trentini e al ritorno dalla Svizzera ci siamo autodenunciati cioè sono andato alla stazione dei carabinieri di via Forze Armate a Milano dicendo io ho portato, accompagnato con la mia auto Fabiano Antoniani in Svizzera per l'eutanasia lì c'è stato il processo, due processi che sono durati vari anni la Corte Costituzionale ma il processo imputato per cosa? per il reato di aiuto al suicidio cioè 12 anni di carcere, fino a 12 anni di carcere se si è condannati la Corte Costituzionale però ha detto no, un attimo questa legge è del 1930 ma la Costituzione è del 48 e la Costituzione prevede anche diritti di libertà individuale e quindi sono stato assolto una legge, quindi il referendum, serve comunque però nonostante queste assoluzioni perché un malato terminale non può andare in tribunale a aspettare anni, tre anni, quattro anni perché poi voi non potete farlo per tutti i malati terminali ovviamente la legge serve perché il diritto sia riconosciuto immediatamente non perché un malato terminale di cancro non è che ha quattro anni di tempo per andare in giro per tribunali e soprattutto il fatto che in questo caso tu sei uscito vincitore da questa sentenza in realtà non la rende vincolante perché sicuramente è importante allora la rende vincolante in realtà in termini tecnici le sentenze della Corte Costituzionale hanno valore di legge hanno proprio valore di legge il problema è che se il Servizio Sanitario Nazionale non ha delle procedure per poterlo fare anche se sulla carta hai un diritto nessuno lo rispetta e quindi non succede niente ok, volevo chiederti una cosa proprio a proposito della disobbedienza civile sicuramente avrai seguito un pochino il caso di Mimmo Lucano secondo te in quel caso si può parlare di disobbedienza civile? allora sicuramente spieghiamo un attimo Mimmo Lucano che è stato condannato in primo grado che violando le leggi sull'immigrazione ha diciamo accolto, fatto lavorare, ospitato in vario modo dei migranti irregolari diciamo così quindi violando tutta una serie di regole si sta facendo risposare insomma esatto ed è stato condannato in primo grado a una pena pesante di mi pare 13 anni di carcere una cosa del genere allora lì è un po' da approfondire nel senso che anche se non abbiamo le carte in mano non è facile sicuramente ha fatto disobbedienza civile nella sua opera la condanna però gli è arrivata anche per delle questioni di diciamo nell'accusa poi io non ne so nulla ma di grazie a tutti